La Polizia di Stato, attraverso un'attente e scrupolosa attività di indagine, è riuscita ad individuare e di conseguenza denunciare nove persone che nella notte tra il 3 ed il 4 settembre scorsi si sono rese protagoniste di una violenta rissa avvenuta nella località balneare di San Leone, frazione di Agrigento. La rissa, avvenuta in una delle zone più frequentate dalla Movida Agrigentina durante la stagione estiva, ha visto coinvolti numerosi giovani, sia agrigentini sia provenienti da comuni limitrofi. La notizia della rissa è circolata sui social ed ha suscitato una vasta eco tra la popolazione. Pertanto, nei giorni successivi all'increscioso episodio, gli operatori di polizia della sezione volanti della questura di Agrigento, a seguito di un'attente ed efficace attività di indagine, sono riusciti ad identificare alcuni dei partecipanti alla rissa ed a ricostruire l'episodio. Sono infatti nove le persone denunciate dalla Polizia di Stato per il reato di rissa, tutti i ragazzi giovanissimi dai 14 ai 20 anni. Inoltre, è attualmente in corso il procedimento di rogazione del provvedimento del DASPO fuori contesto a firma del questore di Agrigento nei confronti dei giovani partecipanti alla rissa per i comportamenti violenti posti in essere nell'occasione dell'increscioso episodio. In forza del provvedimento di DASPO ai giovani sarà fatto divieto di accesso alle manifestazioni sportive al fine di prevenire condotte pericolose per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive. La posizione dei giovani è attualmente al baglio della Procura per i minorenni di Palermo e della Procura ordinaria di Agrigento. Sì, si è voluto dare un segnale forte da parte della Questura per cercare di prevenire questi fenomeni violenti delle risse legate soprattutto al fenomeno della movita, in particolare nella stagione estiva, fenomeno violento che si cerca sempre di prevenire. Per questo motivo si è subito intervenuto da parte della Questura cercando di identificare i soggetti coinvolti nella rissa in modo tale da deferire l'autorità giudiziaria per il reato di risse e poi intervenire con questi DASPO in modo tale da prevenire anche fenomeni di violenza che possono verificarsi in occasione degli eventi sportivi. Cosa prevedono questi DASPO? Sì, DASPO che sono stati combinati dal Questore di Agrigento su proposta della divisione anticrimine che subito si è attivata appena ha ricevuto le notizie di reato riguardo a questi nove soggetti sette migliorenni e due maggiorenni. Il DASPO prevede peraltro nel numero di due anni di divieto e tre anni di divieto ai maggiorenni che questi possano partecipare, prendere parte sia come attori ma anche come spettatori che è la classica situazione ma anche stare nelle vicinanze dei luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive di qualsiasi tipo, tutte le competizioni che avvengono sotto la legge del CONI, quindi non soltanto quelle calcistiche classiche ma anche un basket, pallavolo, qualsiasi competizione sportiva. Bene, questi ragazzi per da due a tre anni tale tipo di competizione è assolutamente vietata sia come partecipanti ma anche come autori stessi della competizione sportiva. Grazie.